E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRiggy01 e oggi siamo al quinto episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer Andiamo subito ragazzi Eccoci qua, eccoci qua ragazzoni, eccoci qua Anzitutto spero che vi sta piacendo davvero questa serie ragazzi E una cosa importante, come state? Se volete rispondimi anche nei commenti come state e tutto di più Seguimi anche su Twitch ragazzi XRiggy-01 Vi ricordo Allora, qua abbiamo continuato a Mercedemon Ho messo a punto una nuova funzione per il PokéNab È fantastica Riggy mi fai vedere il PokéNab che ti ha dato il nostro presidente Ecco Riggy, ho installato una nuova funzione nel tuo PokéNab La, lo Spidafonino Ma? Con lo Spidafonino puoi chiacchierare con le persone che hai registrato nel PokéNab Ah ok Ok perfetto Provo a chiamarlo PokéNab Spidafonino qua Presidente chiamalo Oh Riggy, visto che mi chiami vuol dire che il PokéNab funziona a meraviglia Ok, va benissimo Va benissimo ragazzi, va benissimo Ok, meglio che torniamo a lavoro, ci vediamo Ciao, 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 bello Ciao, ciao, ciao Allora Ragazzuoli, ragazzuoli Tanto andiamo sempre al centro Pokémon come la prima volta Come sempre diciamo, come sempre Allora, ora tocca allenare due Pokémon nuovi Quindi Pidgeot e Jolteon Allora Io direi di mettere per primo Jolteon Perché è un po' livello basso ancora O farò tipo il cambio con Pidgeot Quindi Jolteon Starà qui con noi Oh È vera Oh, ciao Riggy La funzione di sfidafonino installata sul topo Canab Registriamo sufficientemente così Ok, perfetto È registrata vera ragazzi A proposito Ho appena incontrato il signor Marino nel bosco Petalo Penso che stia tornando al suo conteggio vicino al mare Ah, ok Ok, una lotta ragazzi Vai, una lotta Facciamo una lotta contro Vera Speriamo di vincere Perché Quanti Pokémon ne ha? Due, ok, ok, ok Grambull Ok, Grambull Va benissimo Va benissimo Grambull Livello 13 Uh Cazzo Mettiamo Mettiamo Fluffy ragazzi Mettiamo Fluffy Vediamo che usa Visutruci Va bene, va bene, va bene Va bene Ok, va benissimo Vai tuono shock Fascino Che mossa Che mossa di merda fascino comunque ragazzi Vai con tuono shock Non è petto Ah Bene Ok ragazzi L'ho ucciso dopo 20 minuti Usando sempre azione, 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 azione L'ho ucciso Perfetto Giolti a livello 7 Infatti Stava pure per morire Fluffy Sinceramente Allora Mettiamo Jolteon Così intanto Facciamo salire di bello Questo Jolteon Magnifico Quanto è bello Quanto è bello Ragazzi Di Jolteon Ok Ok poi Cazzo A livello Mettiamo Parasect Vai Ok ragazzi L'ho avvelenato Però penso che Parasect Morirà Chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Vediamo un po' Cazzo mai Io uso una bella pozione Sì sì Usiamo una pozione Ragazzi Pozione a Parasect Così non muore E con la Il veleno Muore Il Kimeko Ma è un bel Pokémon Kimeko Ragazzi Comunque Ok Stava pure Nivello 15 Quel Kimeko Jolteon Nivello 8 Buono Turbo sabbia Per il Jolteon Va bene Va bene Va bene Ci sta Ok abbiamo Ucciso Distrutto Vera Disintegrata Proprio A proposito C'è un marino Che ho appena incontrato Se credo Forse Non lo so C'è un marino Navigatore Rispetto a tutti Va bene Andiamo a colare Pomora Ragazzi Ok Il capanno Dovebbe essere Questo qui Ragazzi Ok Sì Il contagio Non il capanno Ok Parliamo Aspetta un attimo Pico Serighe 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 Va benissimo Andiamo Vai Andiamo a Blurubia Ragazzi Andiamo Andiamo Che là C'è anche La seconda Palestra Dobbiamo Consegnare La lettera Rocco E Ovviamente La palestra Ragazzi C'è un po' Di tutto Qua Ok Mi chiamiamo Oh papà Oh papà Mi ha chiamato Oh righe Dove ti trovi Sembri essere Un luogo ventoso Il signor Padre della demon Mi ha detto Che è un Pocanab Così Ho pensato Di chiamarti Sono contento Di sentire Che te la stai Cavando bene Ci sentiamo presto Mamma mia Ragazzi Comunque Sbaglio Su pomo Smeraldo La prima morte Che è Solo su pomo Smeraldo Ci sta il padre Confermatemi anche Questa cosa Ma io mi ricordo Questa cosa Soltanto su pomo Smeraldo Ci sta Il Padre Ok Blurubia Ragazzi Vai Allora Io direi di andare Subito a consegnare La lettera Rocco Ah cazzo Allenatore Vero Vabbè 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 Si può fare Si può fare Ma facciamo Consegna la lettera Rocco E capo palestra Ragazzi Vai Andiamo Andiamo Widol Il grandissimo Widol Ma io qua Vabbè Uso Jolton Ragazzi Non serve Che cambio Penso Ma si Dai Ma si Si Mi ha veramente Avvelenato Ragazzi Vabbè Non ci sto Credendo Vabbè Dai Vai Jolton Mi Le bave Fallisce E Jolton Uccide Widol Non è È vero Non è vero Non è vero Perché fallisce Anche Jolton Ok Addio Addio Fratello Vai Jolton Nivello 9 Ok Perfetto Ok L'altro Allenatore È qua Andiamo Andiamo Riceve Pescare In un Rusciello Non è vero A tre Poggio Ludicolo Livello 10 Va bene Va benissimo Vai Jolton Co'azione Natura Forza Inter moto Tanto Io so Tipo Drago Quindi Ok 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 vai Tuono Shock Fluffy Ho quasi Ucciso Ragazzi Ammiti Addio Ludicolo Emo per allenare Il pokemon Ragazzi È veramente Posta Allora Vabbè Faccio sempre Il cambio Con Jolton Blah 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 Ragazzi Ok Siamo ritornati Con Fluffy Vai con Tuono Shock No Hypnosi Ok Tuono Shock Ok Quasi morto Vai Un'altra volta No Hypnosi Ragazzi Dai però Ok E addio Ghastly È stato pure Paralizzato Quando mi è attaccato Comunque Grazie allo Statico Incredibile Ok Beedrill Rifacciamo il cambio Pokemon Ok Tuono Shock Cazzo Dai Mo Puria 3000 Porti Ma attacca Guardate Ragazzi Ok Tre colpi Meno male Vecuazione Ok Un'altra Azione Vai Un'altra Azione Addio Beedrill Perfetto Fatto Fluffy Stava per morire Tutto questo Ok Perfetto Perfetto Entriamo Nella grotta Pietrosa E tu Poi quanti è davvero buio Non sarà facile addentrarsi Quei ragazzi che ha pensato Che è passato prima Si chiamava Rocco Lui sapeva usare il flash Quindi di sicuro Sarà Andando bene Ok Oh Mn5 Però se mi ricordo Ragazzi È flash Ok Però non mi ricordo Se Avete Serve la medaglia Serve la medaglia Ok Andiamo a fare la medaglia Ragazzi Eccoci qua Allora Non mi ricordo Assolutamente niente Quindi aspetta Ok Ecco il primo Ok C'è solo un po' Regi still Benissimo Benissimo Incredibile Regi still Ragazzi Vai con tuono shock Vai con tuono shock Fluffy Va bene Ok vai Un altro tuono shock Che dovrebbe andare K-O Questo bellissimo Regi still Ok Giotto Non sa livello 11 E quando Non hai il condiviso Di esperienza Ragazzi Devo fare così Purtroppo Ok Il primo è andato Secondo ragazzi Secondo Ah no Lotta in doppio Lotta in doppio Ragazzi Attenzione Attenzione Lotta in doppio Lotta in doppio Beatefly E sandwich Ok Oddio Oddio che carino Oddio che carino Oddio che carino Ragazzi Allora direi Azione qui E tuono shock Qua Vediamo un po' Favamo giocare Anche Jolti Ogni tanto Ragazzi Basta che non muore Basta che non muore Basta che non muore Ok perfetto Un effetto Ok Allora Ho messo Parasite Ragazzi Jolti non stavano a morire Ho ballenato entrambi Quindi Dovebbero morire Entrambi Penso Per afro Che abbiamo usato Ok ragazzi Ok L'azione Ok Se entri Ci muore Beate Plinoso Ok Muoiono entrambi Incredibile Il veleno Ragazzi È la cosa Più bella Del mondo Vi giuro Ok Tanta esperienza Intanto Jolti Velo 12 Va benissimo Va benissimo Ma ragazzi Incredible Non ci sto credendo Non ci sto credendo Ragazzi Ma l'ho trovato così L'ho trovato A culo proprio Cioè Ho battuto soltanto due Trainer Va bene Sono Rudy Ok Vai E' proprio palestra Ragazzi Subito Cioè L'ho trovato a culo Proprio Io se andavo dritto Basta Nincada Va bene Nincada Nivello 16 Ok Vai Fluffy Ok No Super Pozione Va bene Intanto è paralizzato È rimasto paralizzato Quindi È buono È buono È buono Ok Li togliamo tanto Comunque con tuono Sciocca Nincada Vai Sanguisuga Vabbè Penso che mi toglie Niente Sanguisuga Ragazzi Penso Uno Due Ok Tre Uno Due Tre Ovviamente Il numero Che dico io Non esce mai Vai Fluffy Fluffy comunque Ragazzi è bellissimo Ok Vai Jolton Shizor Allora Mi ha ucciso Fluffy ragazzi Shizor Mi ha ucciso Fluffy Però Forse noi possiamo Ucciderlo No Usa la pozione Super pozione Super pozione Scusate Oddio No ragazzi Parasect Uno di vita Ragazzi Pidgeot Non deve morire Graffica Ragazzi ho perso Quindi ci riproviamo Subito Ok Siamo ritornati qua Ragazzi Mi è morto Jolton Perché lo usavo All'inizio Quindi Rimane Marco Ve le impolvere Ragazzi No Non ce l'ho fatta Va bene Va bene Bene Fluffy Ti prego Fluffy Fluffy Ti prego Sgomento Ok Tentenna Sgomento Ok Ti prego Lo fa Fì Cazzo Ok ragazzi 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 Riproviamoci Attenzione Jolton Ho ucciso Nincada Stavolta Attenzione Shizor Mettiamo Parasect Ok Penso che Parasect Ragazzi Muore Muore male Falso finale Ok 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 No Attenzione Mamma mia Ragazzi Shizor È stato Stupido Usare Falso finale Vai Parasect Bravo Marco Facciamo Jolton Ragazzi Che sapete Che faccio Turbo Sabbia Di Pagogo Intanto Jolton Qua Non ha Tante Mosse Utili Per Marco Quindi Turbo Sabbia Go Ok Buono 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 Allora Potremmo Farcela Potremmo Seriamente Farcela Vai Parasect Ti prego Usa No È vero È tipo Buio Lui Mamma mia Ragazzi Mamma mia Che lotta Incredible Incredible Ti prego Pidgeot Ti prego Pidgeot Raffiga Vai 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 ragazzi Vai ragazzi Ce la posso fare No Non ce la posso fare Ok ragazzi Riproviamoci Per l'ennesima volta Ho allenato un po' i pokemon Riproviamoci Ok Ninkata Quasi 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 Morto Forse È ora Attenzione Ok Arfly E ce lo togliamo Scisor Mettiamo Parasect Attenzione No Che palle Ste pozioni Ok Siamo sempre qui Riproviamoci Riproviamoci Forse È morto Io ci metto Gjoltion Io ci metto Il mio Gjoltion Che ti fa Questo Ti fa No devi però Non farmi Non morire Ok Vai con tu Non shock Ok Il verino è effetto E muore Perfetto Addio Scisor Ok Livello di A7 Gjoltion Marklow Devi morire male Ok Ok C'è ancora Fluffy ragazzi Ricordiamo Allora Vai Vai Gjoltion Vai Gjoltion Ti prego Quanto togli Ragazzi Ragazzi Per favore Sì 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 L'abbiamo battuto Abbiamo battuto Il capopalestra Dopo 3000 anni Ragazzi Con Fluffy Con Fluffy Grande Fluffy Mua Fluffy Mio fratello Fluffy Ragazzi Sì Olè Medaglia Pugno Da Rudy Ragazzi Medaglia Pugno Ok ragazzi Entriamo nella grotta Che abbiamo battuto la palestra Dopo tre anni Incredibile Ok andiamo Allora Ho fatto imparare Flash A Parasek Ragazzi Una Pokéball Pune di fuga Perfetto 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 Vai Ok Ok Allora Pokémon Flash Vai Ok Andiamo a come si trovano Ragazzi Prima incontravamo Magiker Infatti Sì Zagun Va bene Ragazzi Mi sono perso Comunque però Pietrastante Ok Ok Buono 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 Non mi ricordo la strada Ragazzi Forse qua Non mi ricordo la strada Ragazzi Vi giuro Vediamo un po' Che troviamo Ludicolo Non mi interessa Ma è qui ragazzi Non so Non mi ricordo Vi giuro Ancora Ludicolo Ancora Ludicolo Ok Ma è qui ragazzi Vero Ah ok Perfetto Mi chiamo Rocco Viaggio in cerca di pietre rare E mi piacciono Da morire Una lettera per me C'è della lettera Per chi c'è della lettera Ok Questa è MT MT 47 Forse è all'acciaio Ok Deve essere all'acciaio Ragazzi Ok Rocco È venuto da qua Ok Ciao Rocco Vediamo un po' Che mossa è ragazzi Vediamo un po' Se qualcuno La può imparare All'acciaio Pijot Oh 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 Facciamo imparare subito Ragazzi Vediamo azione Vai Allora ragazzi Per oggi Ci fermiamo qui Quindi ragazzi Grazie a tutti Vi voglio bene Condividete il video Lasciate like Commentate E Ciao belli Ciao kiki Mua Ciao kiki